Letta, con lei si può parlare? Eccomi qua! Si può parlare con lei? Fantastico, perché da lei ma c'è il cordone e non ci si può parlare. È l'ultima manifestazione che facciamo? Contro Berlusconi, dico. Perché martedì perde, spero di sì. Eh, eh, quello è il concetto. No, insomma, se ne possono fare anche tu, perché ne hai fatte talmente tante che... Ma ce lo terremo ancora a lungo? No, no, stavolta basta. No, secondo me è finita, però non bisogna dare... vendere alla pelle dell'orso. Eh, però il problema è mio, finisce Berlusconi e va bene, c'ha pure 74 anni, poi tocca a tutti, ma il berlusconismo? Quello è il problema più grosso, perché il berlusconismo purtroppo è entrato dentro pezzi della nostra società. Eh, ma anche... Anche qua dentro? Come si manifesta qua dentro? Questo leaderismo, questo tutto, ognuno che... tutto, personalismo, populismo, sono cose... Bisogna lavorarci, ok. No, 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 no...